Cristiano Malgioglio si difende al GF Vip, l'attacca Predolin Cristiano Malgioglio si difende al GF Vip, l'attacca Predolin Marco Predolin, il nuovo scontro. Lunedì scorso è andata in onda la terza puntata della seconda edizione del GF Vip, e le polemiche si sono sprecate. Difatti ci sono state diverse eliti tra i concorrenti. . E la diatriba che più ha fatto discutere sui social è stata quella tra il cantautore Cristiano Malgioglio e il presentatore Marco Predolin. . Il motivo? Quest'ultimo è stato attaccato dall'opinionista Alfonso Signorini per alcune dichiarazioni omofobe contro il cantautore fatte negli ultimi giorni. Motivo per cui Cristiano che è rimasto male, annunciando di voler abbandonare il reality show condotto da Ilari Blasi. . Un'idea che pare aver accantonato, ma la sua rabbia nei confronti di Predolin sembra non essersi minimamente smorzata. E l'ultimo episodio accaduto nella casa più spiata dagli italiani pare dimostrarlo. . Cos'è successo? Come riportato dal blog Bitkif.it, Predolin ha chiesto a Malgioglio di andare in confessionale insieme. Una richiesta che ha immediatamente rifiutato. Finita qua? Nemmeno per sogno perché, successivamente, è sbottato, asserendo senza tanti peli sulla lingua. . Non lo sopporto, è più forte di me. Lo metterò in nomination, non vedo l'ora. Ha offeso tutti i gay, tutti. Non voglio quello vicino a me. I due riusciranno mai a chiarirsi? . Cristiano Malgioglio furiosa al GF VIP, l'attacco a Marco Predolin. Cristiano Malgioglio, nonostante siano passati diversi giorni dalla discussione avuta con Marco Predolin, sembra essere ancora molto arrabbiato. . . Motivo per cui ha più volte dichiarato agli altri inquilini di non volere stare con lui nella casa del grande fratello VIP, aggiungendo di non stare più nella pelle nel poterlo nominare. . Peccato che proprio Predolin, avendo vinto la sfida contro Gianluca impastato lunedì scorso, ha ottenuto l'immunità anche per le prossime nomination. . Tuttavia sono tanti i fan del reality show condotto da Ilari Blasi a pensare che l'uomo potrebbe perdere questo beneficio per le frasi omofobe pronunciate negli ultimi giorni contro il popolare cantautore. . . Predolin potrebbe correre questo rischio? Per scoprirlo non resta che seguire la prossima puntata del Grande Fratello VIP prevista lunedì 2 ottobre alle 21.30 su Canale 5. . Insomma, nonostante il reality show VIP di Canale 5 sia iniziato da poco più di due settimane sembra davvero che i concorrenti abbiano un diavolo per capello. . Malgioglio e Predolin riusciranno mai a chiarirsi? Perdonerà Marco per le brutte frasi degli ultimi giorni? E chissà se vorrà abbandonare davvero il Grande Fratello VIP come annunciato in queste ultime ore, facendo preoccupare molto i suoi fan. . 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 Grazie a tutti.